gentili telespettatori buona giornata la sinistra come area politica ha deciso soprattutto il pd ha deciso meglio governare con salvini che tanto ce lo incartiamo su come con mattarella meglio governare con salvini e con berlusconi che avere un governo meloni un governo di destra con una politica che è un vero politico e quindi saremmo relegati a un'opposizione che spesso non sa come ribattere alle tesi di un governo di centrodestra guidato da meloni meloni non è malleabile come salvini meloni non si fa incartar su come salvini per l'elezione di del presidente della repubblica il capitano fa tanto il duro ma alla fine gli facciamo fare quello che vogliamo noi pensa la sinistra e allora l'unica carta che c'è visto che la distanza elettorale tra centro sinistra e centro di oltre il 10 per cento a questo punto isoliamo la destra facciamo una sorta di governo di unità nazionale costante naturalmente unito dall'impedire alla destra quella cattiva di giorgia meloni di andare a governare perché quella cattiva è perché la dipingono così no la dipingono così perché serve dipingerla così ho sentito parole di xenofobi illiberali impresentabili sono tornati sono sempre quelli lì e giorgia meloni è brava camuffa ma sotto sotto se arriva al governo vedrete cosa succederà no come se giorgia meloni va al governo e il giorno dopo si affaccia dal balcone no ecco per per renderci per chiaro quello che vuol far intendere la sinistra uniamoci contro contro gli liberali contro chi potrebbe instaurare un regime totalitario tutte balle ovviamente sanno perfettamente sanno perfettamente che non sarà mai così lo sanno ma l'elettorato all elettorato piace questa questo no all'elettorato piace questa sorta di 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 battaglia di altri tempi e così il centro sinistra corteggia la lega di governo con un obiettivo chiaro spaccare il carroccio e il centro destra per continuare a governare insieme cosa vuol dire se loro riescono a far dividere a scissi una nella lega e il pd dice come le scissioni solo da noi e caspita calenda e si fa il suo partito si becca al 45 per cento assieme a quegli altri e renzi si becca al 2 per cento facendo a scissi una possibile che le scissioni solo nel pd una bella scissioni anche nella lega salvini che viene con noi come dire noi lo odiamo non lo sopportiamo ma lo facciamo sentire importante gli diciamo vieni con noi sei bellissimo matteo come le sirene no matteo e lui dice dove dove di qua dove dove a sinistra alla rotonda dopo al primo incrocio gira a sinistra e poi alla prima a sinistra ancora e alla seconda a sinistra ancora e lui sì 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 sto arrivando sto arrivando ecco fare una bella scissione nella lega dove salvini diventa una sorta di movimento 5 stelle che passa a sinistra no un po come l'acquario dei dipendenti del mega direttore galattico fantoziano no vi ricordate dice dice ma santità vedo che le manca la triglia no e così anche fantozzi va a fare la triglia nell'acquario del mega direttore galattico ecco il mega direttore galattico è un'entità astratta nel pd che nessuno ha mai visto che ha fatto diventare tutti i grillini li ha messi nell'acquario del pd guarda c'è l'usciere sorteggiato guarda c'è toninelli c'è la lazzolina guarda c'è la 30 e salvini dice manco solo io il capitano non c'è niente da ridere proprio così nell'acquario della sinistra manca solo il capitano e il capitano è già salito all'ultimo piano quello con tutte le stelline no si se si segga si segga si segga salvini si segga dove lì lì e c'è l'inginocchiatoio no ecco ma e salvini dice al mega direttore del pd ma ho sentito che lei è di sinistra e tutta la parete trema no e lui non lo dica non è vero io non sono di sinistra e guardi e si apre l'acquario vedo che le manca il capitano nell'acquario c'è toninelli o la 30 lazzolina dj fofo beh insomma nell'acquario del pd manca solo il capitano una bella scissione una parte della lega va con la sinistra e fanno come come il 5 stelle fanno i pesci satelliti no i pesci pilota no in mezzo c'è il pd e poi di fianco che nuota c'è da una parte la lega scissionista e dall'altra parte il movimento 5 stelle poi quel che rimane di un roccio di quelli alla bossi no con la canottiera roma ladrona la lega non perdona ecco quelli andrebbero di nuovo a destra e cercherebbero di di coalizzarsi magari senza successo con giorgia meloni perché i leghisti duri e puri quelli alla bossi che ci azzeccano con un partito patriottico come quello della meloni con quelli che arrivano da quel partito là quello degli anni 90 no ecco l'idea della sinistra è proprio questa è proprio questa e piano piano ci stanno riuscendo questo è il problema this is the problem questo è il problema detto in inglese no this is the problem the problem questo è il problema dobbiamo comunque dire che in quanto a giochi di poltrone la sinistra è quasi imbattibile loro c'è proprio una scuola di come la possiamo schiamare la scuola del poltronificio di sinistra la premiata ditta del poltronificio di sinistra tu vai lì due volte a settimana due ore due ore martedì e giovedì e c'è un bel corso di poltronificio come creare una poltrona come ritappezzare una poltrona come cambiare poltrona ecco corsi per poltronari su quello sono imbattibili e salvini ci sta cascando con tutte le scarpe anche anche il silviuccio caro arrivederci a tutti e grazie